Come ben sapete la stagione estiva è ufficialmente partita. Le attività della zona mare piano piano si risvegliano e riaprono tutti i loro servizi. Ora andiamo a scoprire insieme con i titolari di queste attività, bar e ristoranti, i servizi che metteranno a disposizione per questa prossima stagione estiva. L'estate sta entrando nel vivo. Come si stanno preparando i locali del lungomare a una bella stagione che sembra finalmente aver messo da parte gran parte delle restrizioni da pandemia? Per fortuna ci stiamo tutti preparando molto molto bene, siamo tutti pronti per una speriamo bellissima e stupenda stagione estiva. I preparativi stanno andando avanti anche nelle strade, nelle infrastrutture, quindi speriamo tutto per il meglio. Noi ovviamente stiamo cercando sempre di fare il nostro massimo, cercando di ritornare a una norma che era quella prima del Covid, cercando di dare un servizio, di dare intrattenimento, di dare comunque il massimo che possiamo offrire ai nostri clienti, sia dal punto di vista della cucina, dal punto di vista dell'intrattenimento musicale. Si prepara, speriamo che ci sia la gente, che ci siano sia i pesaresi che i turisti specialmente. Questa zona d'estate cambia un po' situazione, perché comunque noi qui non è che facciamo eventi, quindi voglio dire è una situazione che sembra strano ma più tranquilla, perché poi i ragazzi che magari d'inverno si concentrano qua, si ritrovano le compagnie, si spostano nelle spiagge dove ci sono un pochino le feste, le situazioni. Viale Trieste, proprio in questi giorni, è sottoposta a lavori in preparazione delle prossime settimane. Quali arredi urbani o interventi estetici migliorerebbero ulteriormente la zona mare, secondo te? Ma adesso sinceramente non è compito mio dire cosa è meglio o peggio per il Viale, però già che fanno asfalti, il parcheggio in fondo, quest'anno ho sentito dire che ci sarà anche un Luna Park per i bimbi in fondo, dove c'era Villa Marina, quindi è tutto. Poi se ci saranno anche dei giardinetti, il problema comunque maggiore è il parcheggio per gli scooter. L'idea che ci sembrerebbe, potrebbe essere interessante, sarebbe quella di rendere fruibili le aiuole che sono situate quasi di fronte ad ogni locale del Viale, che da tanto tempo hanno la stessa immagine, da tanti anni. Sarebbe necessaria, secondo noi sì, una rinfrescata di quello che sono le decorazioni del Viale e magari renderli fruibili sarebbe una buona idea, come in altri punti è già stato fatto, con per esempio giochi per bambini o quant'altro. Un po' di parcheggi qua davanti a noi, ma del resto hanno fatto la pista ciclabile, quindi va bene così, ci sta bene. Citando proprio i parcheggi, cosa ne pensa della pedonalizzazione di Valle Trieste? È un elemento positivo? No, è positivo, trasporta molta gente, c'è molto trasporto di gente. Sicuramente questa zona deve essere un po' rinomata, perché la maggior parte vanno tutti nella parte alta del mare, qua è meno frequentata, però non ci lamentiamo. Ma secondo me l'idea della zona pedonale comunque ci sta, in una città di mare è giusto che comunque il lungomare venga sfruttato e utilizzato anche in via pedonale, è chiaro che possibilmente i lavori sarebbero potuti essere fatti un po' prima in maniera tale da evitare anche tutti i disservizi che ci sono stati in questi giorni, però fondamentalmente io penso che il comune sappia come gestire tutta la parte pedonale in maniera tale da renderla più bella e fruibile possibile. Noi consideriamo che soprattutto nella fascia oraria diurna non sia assolutamente necessario e come noi penso la maggior parte dei commercianti e delle attività di questa zona, perché di fatto rendono impossibile, è molto difficile avvicinare clienti durante la fascia oraria diurna, poi per la sera potremmo, sì è un'altra cosa, però ecco sarebbe secondo noi intelligente modificarla, perlomeno permettere durante il giorno libero accesso sia alle strutture balneari che alle nostre attività. La pandemia ha avuto anche l'effetto collaterale positivo di aumentare i tavoli all'aperto, e l'occupazione di suolo al pubblico, è un'opportunità che continuerà anche quest'anno? L'occupazione del suolo pubblico noi l'abbiamo sempre avuta, ovviamente pagando la tassa che ci competeva, e in questi anni di pandemia sicuramente è stato un bel contributo da parte del comune di avverare quella parte di tasse e darci la possibilità di aumentare anche il suolo, l'area occupabile con i tavoli. Mi sembra che se tu hai fatto la richiesta di suolo pubblico nel 2019 pagherai solo il 30%. Al comune, al sindaco chiedo di avere un'attenzione in più per farci usufruire degli spazi pubblici, in modo da poter garantire sempre in sicurezza l'affluenza e dare sempre un'ospitalità a chi viene nei nostri locali in una maniera adeguata e sicura per la nostra salute.